Ho un concetto di bar molto 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 semplice perché ho rispetto assoluto per i prodotti e per la ricerca che c'è dietro ai prodotti e molto difficilmente ho una miscelazione complessa e quindi il mio drink è fatto con il giunione del Clarenne di un Casimir insieme al Casimir, cioè praticamente gli ingredienti è tutto lui. D'altra parte sono abbastanza tranquillo perché far venire a fuori qualcosa di buono non è che è difficilissimo in questi prodotti. Insomma la miscelazione per me è fatta di tradizioni, è fatta di rispetto di tradizioni, è per quello che non mi sono sentito di fare cose strane, al contrario ho rafforzato quello che è il concetto di Casimir e questo è il mio drink. Grazie.